Quest'anno è un anno eccezionale, perché abbiamo una rock star di Agnetta, una pecorella smarrita che come il figlio del prodigo è arrivato a ritornare a Agnetta. Il Neno, eccolo qua. Quanti anni sono che non canta il Maggio? Ricco, vieni avanti che vi mettiamo vicino perché qua ragazzi c'è una famiglia intera. Quindici anni che aveva cantato, quando c'aveva il pelgattin è ritornato che c'era la barra bianca. Confermi? Confermi, confermi, confermi. Quindi ragazzi questa qua è un avvenimento, è un avvenimento, facciamo la storia. Direi proprio di sì, sono qualche anno che ci penso. Va battesato, va battesato. E dovete, dovete, ragazzi se gli vetti forti però eh. quando non ti vedi è sempre così. E' un vecchio quello là. c'era Bill Laden e Vito Spatuzza gli avevi detto mi sembri Valanzasca eh Valanzasca tagliati quella barba che sembri Valanzasca